Sono più di due anni che ci hanno occupato la vita e a causa di questi inganni qualcuno l'ha data così. Cedere la propria libertà non è mai una buona politica, ma molti l'hanno adottata e ne hanno fatto una frittata. Frittare le paure della gente è quello che hanno fatto fino adesso, ma io le paure le butto nel cesso e continuo a vivere così. La vita non ci è concessa o almeno dovrebbe essere così. L'identità, l'identità è la nostra libertà. Questa è la mia canzone, io che non mi sono piegato. A chi deve andare fuori ammazzato in una guerra che ha un voluto romano. Questa è la storia di un mondo fatto di cretini adulti che si comportano da ragazzini. per poi essere i gabatti un mondo fatto di cretini adulti che si comportano da ragazzini.